ciao sono cesare avevo promesso al recel tv che avrei fatto un piccolo video qualcosa di simile per la sua rubrica di cuori solitari un po perché in parte è vero che cerco una fianzata in parte così per divertimento per gioco beh che dire io 38 anni sono abbastanza belloccio essendo un ex fotomodello ho tante belle ambizioni un lavoro in parte stabile in parte precario mi piacciono le donne ma cerco qualcosa di serio non sono molto farfallone e non sono un fenomeno a fare il playboy e poi niente grazie a recel che mi ha dato questo consiglio di sviluppare un piccolo video di me anche se metterò delle foto che sono magari più chiare più semplici da interpretare poi niente spero che qualcuno si interessi a me ciao ciao sono cesare